Il comitato etico della FIFA ha sospeso per tre mesi in via cautelare Zeb Blatter e Michel Platini. Blatter, attuale presidente della FIFA, aveva annunciato da tempo le proprie dimissioni effettive alla fine di febbraio. Scosso da una nuova inchiesta della magistratura alvetica, aveva detto di voler restare al proprio posto. Di diverso avviso il comitato etico. Nell'inchiesta ha coinvolto anche Platini, attualmente a capo dell'UEFA, in quanto percettore di un'ingente somma versata da Blatter. Platini e Blatter l'hanno giustificata come pagamento di consulenze avvenute anni prima, quando Platini non presideva l'UEFA. Platini ha detto di voler mantenere la propria candidatura alla presidenza della FIFA.